Ben ritrovati con il minuto sale e luce. Sono stati tanti gli impegni questa mattina per il Pontefice. Nella Sala dei Papi, i membri del club universitario di rugby argentino di Resistenzia hanno incontrato il Pontefice. Papa Bergoglio ha successivamente ricevuto i partecipanti al Congresso dei Centri Nazionali per le Vocazioni delle Chiese d'Europa e dopo i dipendenti delle poste vaticane con i loro familiari. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, ha annunciato questa mattina che il Santo Padre riceverà in udienza in Vaticano il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin il prossimo 4 luglio. È iniziata oggi presso l'Aula Nuova del Sinodo la conferenza internazionale promossa dalla Fondazione Centesimus Annus Propontifice sul tema della dottrina sociale della Chiesa, dalle radici all'era digitale, come vivere l'ha laudato sì. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese, attenzione, l'appuntamento è a domani.